Avete mai comprato da Shane? Sono sicuro che la maggioranza delle risposte sarà sì, soprattutto per i più giovani. Tra l'altro il Time l'ha giunta tra le 100 aziende più influenti nel 2022. E perché comprate da Shane? La risposta è ovviamente per i prezzi molto bassi. Ma vi siete mai chiesti come fanno a fare questi prezzi esageratamente bassi? Al di là della pessima qualità dei capi, totalmente made in Cina, senza controlli, capi copiati, al di là di questo, che comunque dovrebbe già far riflettere. Il vero lato scuro del colosso cinese è lo sfruttamento. Infatti ad esempio, nonostante le leggi cinesi impongano un massimo di 40 ore settimanali, i dipendenti di Shane lavorano 75 ore settimanali. 75! E hanno un giorno solo di riposo. E voi direte, alla settimana? No, al mese. Uno. È come se il gennaio lavorasse dall'1 al 30 tutti i giorni, 12 ore al giorno, e il 31 di riposo. E poi si rincomincia. La fonte non sono io che me lo sono sognato stanotte, bensì è tutto dimostrato da un'indagine dell'ONG svizzera Public Eye. Ovviamente i dipendenti sono anche sottopagati, lavorano in brutte condizioni, più che laboratori sono magazzini malconci e sporchi, senza uscita di emergenza, senza precauzioni, senza sicurezza. Quindi in caso di incendio sarebbe un bel casino. Anche se è brutto da dire, chi compra da questi siti fomenta, alimenta questa situazione anche senza saperlo. E voi direte, ma come possiamo fare noi a fermare questa situazione? Migliorando le scelte d'acquisto, qualità non quantità. So che non è l'unica azienda a fare cose del genere, ci sono stati altri scandali di altre realtà, ma comunque non nel 2022, ma in ogni caso stiamo prendendo in analisi questa. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se comprate spesso da questo sito, vi invito a riflettere. Grazie. Grazie. Grazie.